Quartiere della Colombina in stato di shock ma allo stesso tempo al lavoro sfrenato per trovare una soluzione valida che permetta ai gialloglu di disputare le tre giostre del Saracino del 2016. La batosta si chiama anemia infettiva per la quale è risultato positivo un cavallo delle scuderie di Porta Santo Spirito. Per legge anche tutti gli altri equini che ne sono venuti a contatto devono stare in quarantena. Il quartiere di fatto è senza cavalli per correre giostra. I vertici sono al lavoro sia sul fronte dei cavalli sostitutivi anche se pare difficile trovarne di adatti alla piazza in così poco tempo ma anche sui cavilli di legge che possono aprire la strada ad una deroga. La vicenda d'esta preoccupazione in tutto il mondo della giostra come conferma il presidente dell'istituzione Franco Scortecci. Le soluzioni so che ci stanno lavorando, si stanno interessando di trovare anche nuovi soggetti, nuovi cavalli ma il settimana prossimo iniziano le prove. Io so ormai per esperienza che per preparare un cavallo per la giostra di Saraceno ormai ci vogliono gli anni. Una volta si risolveva in qualche modo anche con qualche piccolo tranquillante che tranquillizzasse cavalli, oggi la tranquillità del cavallo si ottiene con mesi e anni di lavoro. Improvvisarsi diventa difficile ma diventa difficile non solo per il quartiere ma io penso anche per la città. Cosa ci possiamo aspettare? Un cavallo può avere reazioni inaspettate. Si è visto anche i cavalli nelle ultime giostre di alcuni quartieri, i cavalli lavorati da tempo, preparati da tempo che in piazza hanno avuto delle reazioni imprevedibili. Il rischio è per i giostratori, per i cavalli stessi, per il pubblico e gli spettatori. Mi capite che la preoccupazione è tanta. La strada delle deroghe a questa legge potrebbe essere percorribile? Io so che ci stanno lavorando, stanno dandosi da fare sia per trovare soluzioni alternative in cavalli, ma cosa che non vedo facile, ripeto, per i motivi prima esposti. Sulle deroghe c'è tutta una serie di cavilli legali sul quale io non sono entrato dentro. So che stanno cercando pareri di esperti in epidemie, quindi dal punto di vista veterinario. La legge è molto rigida e penso di aver capito che sia stata creata su delle esigenze più legate all'est europeo piuttosto che all'Italia, dove ci sono focolai ma sembrano poco forti, insomma quasi dormienti. Quello che riescono a fare non dipende da noi. Noi facciamo il tifo, io come il presidente di istituzione ho tutto l'interesse di supportare tutti quelli che possono essere in grado di trovare una soluzione a questa batosta, come si diceva prima.